Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Cipava donne anziane per comprare droga arrestato un fanese Rubano biglietti della lotteria istantanea due rumeni finiscono in manette Addio a Rino Magnini poeta dialettale innamorato della sua Fanno alcune celebri commedie tra cui Don Achille 30 anni fa scrisse una poesia per San Giovanni Paolo II Donna morta all'ospedale di Torrette i familiari chiedono l'autopsia Cristian Fanesi del PD è il settimo assessore con delega ai lavori pubblici Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Subito la cronaca con un'operazione congiunta di polizia e carabinieri è stato arrestato un fanese che scippava donne anziane in sella alla sua bicicletta furti che metteva segno per comprarsi eroina e cocaina Abbiamo neutralizzato un grave fenomeno assicurato alla giustizia un individuo pericoloso che avrebbe colpito ancora è stato definito così da polizia e carabinieri lo scippatore seriale che con un'operazione congiunta delle forze dell'ordine è stato arrestato mercoledì 21 ottobre all'interno della sua abitazione a Centinarola di Fano si tratta di Nicola Gaudenzi un fanese di 40 anni ritenuto responsabile di 7 rapine e furti con strappo l'uomo nonostante avesse già un lavoro cercava di procacciarsi ulteriori soldi per acquistare cocaina ed eroina scippando donne in particolare anziane e sempre in sella alla bicicletta il quarantenne inoltre agiva in forte stato di astinenza dalla droga e questo lo rendeva violento in alcuni casi li speronava proprio con uno scooter uno scooter bianco un malaguti e faceva cadere rovinosamente a terra queste anziane donne per poi togliergli scipparle delle borsette che avevano a tracolla sulla spalla in alcuni casi lui gli sfilava la borsetta dal cestino delle biciclette stesse però in ogni caso ne nasceva poi o una colluttazione con la donna che opponeva resistenza quindi dei 7 casi addebitati 5 sono stati qualificati come rapine Gaudenzi con precedenti penali colpiva tra via Forcolo via 4 Novembre via Trave via Roma davanti al cimitero di Rosciano e nel quartiere di Sant'Orso indossava sempre indumenti a maniche lunghe per coprire i numerosi tatuaggi e un casco a scodella di colore nero le forze dell'ordine invitano i cittadini che hanno subito scippi o furti a denunciare l'uomo qualora dovessero riconoscerlo riteniamo che abbia colpito anche un numero superiore rispetto ai 7 che siamo riusciti a dimostrare a provare raccogliendo anche dei gravi indizi di colpevolezza a sua carica abbiamo ritrovato anche della refurtiva le borsette di cui lui poi si liberava successivamente non lontano dalla sua abitazione non siamo riusciti a trovare i soldi quei pochi soldi che poi è riuscito a raccimolare l'autorità giudiziaria di Pesaro ha emesso nei confronti dell'uomo un ordine di custodia cautelare in carcere quindi una volta rintracciato dagli agenti del commissariato coordinati da Stefano Seretti e dai carabinieri di Fano comandati da Alfonso Falcucci lo hanno arrestato e condotto nel carcere di Villa Fastigi e si usa la violenza e la polizia stradale invece ha messo le manette addosso a due rumeni che avevano il vizio di rubare i biglietti della lotteria istantanea sono stati sorpresi in flagranza di reato un uomo di 36 anni e una donna di 33 entrambi rumeni senza fissa dimora e intenti a rubare biglietti della lotteria istantanea ad accorgersene è stata una dipendente dell'autogrill dell'area di servizio Foglia Ovest nell'autostrada a 14 nel comune di Pesaro che ha visto i due mentre stavano prendendo da uno scomparto del banco cassa un mazzo di 73 biglietti per un valore di circa 300 euro senza pensarci due volte la dipendente si è fatta avanti chiedendo alla coppia di restituire il mal tolto mentre una sua collega si è preoccupata di allertare la polizia il tempestivo intervento degli agenti della stradale ha consentito di bloccare i due sospetti e di recuperare oltre ai tagliandini anche quattro bottiglie di vino ed alcune lattine di bibite che avevano preso negli scaffali dell'autogrill e che tenevano nascoste dentro una borsa una volta arrestati sono stati trattenuti alla questura di Pesaro in attesa del processo che si è concluso con la condanna della donna a sei mesi di reclusione e 200 euro di multa e dell'uomo a nove mesi di reclusione e 300 euro di multa è morto all'età di 76 anni Rino Magnini celebre poeta e autore di commedie dialettali come Donna Chille Magnini è stato colpito da un'emorragia cerebrale due settimane fa trasferito all'ospedale di Pesaro è deceduto martedì scorso alle 17.34 Rino lascia la moglie e una figlia alla quale era attaccatissimo il funerale si terrà in forma strettamente privata il necrologio verrà affisso ad esegui avvenute per volontà della moglie la famiglia naturalmente le condoglianze di Fano TV ed è giallo sul decesso di una paziente di Fano di 60 anni è deceduta all'ospedale di Torretti di Ancona mentre si stava sottoponendo ad una trasfusione di sangue va in ospedale per una visita e muore il giorno dopo è successo all'ospedale regionale di Torretti di Ancona dove Giuseppa Pisanelli 60enne di Fano si era recata lunedì scorso per un controllo specialistico all'inizio non c'era nessuna preoccupazione per il suo stato di salute ma durante una visita i medici avrebbero riscontrato dei problemi a causa di una cura farmacologica indicata alla donna Giuseppa che aveva un forte dolore all'addome è stata trasportata in gastroenterologia dove è stata ricoverata per tutta la notte la mattina seguente poi i dottori le avrebbero effettuato diverse analisi ma prima che arrivasse l'esito la signora è stata accolta da un malore il cuore della fanese avrebbe smesso di battere mentre i medici tentavano di praticarle una trasfusione di sangue sulla vicenda ora si è aperto un giallo e l'ipotesi di reato potrebbe essere quella di omicidio colposo ma per il momento nessuno sarebbe scritto sul registro degli indagati anche per avere notizie sulla possibilità di restituire la salma ai suoi cari per l'eseque oggi l'avvocato della famiglia Enrico Cipriani ha incontrato il pubblico ministero titolare del fascicolo il pubblico ministero mi ha comunicato che ancora per qualche giorno visto che stanno facendo la disamina dei referti delle cartelle cliniche e stanno ascoltando i medici si è ancora riservato su questa informazione proprio perché dovrebbe poi sciogliere il nodo in relazione all'esame autoptico da fare sulla signora l'esame autoptico consiste solamente in una verifica interna che fa l'ospedale ma i parenti sotto shock non avendo ottenuto nessuna risposta dai medici hanno deciso di presentare un esposto con l'obiettivo di far luce e stabilire eventuali responsabilità ma diciamo che è una sorta di atto dovuto in questa fase dedicata cioè dopo il dramma dell'altro giorno cioè dopo il fatto che la signora sia stata chiamata dall'ospedale per una visita e per alcune complicazioni è stata poi ricoverata e non era un ricovero ovviamente programmato e poche ore dopo è deceduta è ovvio che stante al momento una risposta ufficiale da parte dell'ospedale in relazione agli accadimenti era doveroso fare un esposto a garanzia di tutte le parti cioè sia chiaramente della famiglia per quanto accaduto che dei medici che hanno avuto in cura la signora in quelle ore per cercare di capire esattamente che cosa sia successo e Cristian Fanesi del Partito Democratico è il settimo assessore della giunta seria lui andranno le deleghe ai lavori pubblici protezione civile mobilità urbana e servizi cimiteriali in consiglio comunale invece siederà Sergio Del Rico primo dei non eletti nelle liste appunto del Partito Democratico lo aveva annunciato tempo fa il sindaco Massimo Seri e questa mattina è arrivata la conferma sarà Cristian Fanesi del Partito Democratico il settimo assessore della giunta fanese dovrà occuparsi di lavori pubblici protezione civile viabilità e servizi cimiteriali alla fine dunque la soluzione è stata trovata individuando Rosetta Fulvi come nuovo presidente del consiglio comunale insediatasi nella seduta di ieri mentre Fanesi ormai ex capogruppo consigliare come settimo assessore a costo zero visto che Carla Cecchetelli ha rinunciato a parte della sua indennità per coprire quella di Cristian che questa mattina ha firmato ufficialmente la documentazione il primo cittadino per ora non prevede ulteriori rimpasti ma seguirà da più vicino il settore del turismo più avanti invece penserà ad assestare la macchina organizzativa che potrebbe interessare i dirigenti o l'accorpamento di servizi intanto visto che Fulvi percepirà solo metà dell'indenità ha precisato Seri siamo la struttura che costa meno nella storia della città di Fano continuiamo quindi sulla strada della sobrietà ha commentato e in questo modo verrà alleggerito il lavoro degli altri assessori che potranno concentrarsi maggiormente sugli obiettivi prefissati Afanesi invece ha augurato buon lavoro definendolo un giovane con tanta voglia di fare sono convinto ha detto che sarà un buon collaboratore del sindaco non dobbiamo mai dimenticare che la giunta è un organo collegiale quindi deve esserci un discorso di squadra così riusciamo a integrare meglio anche una serie di deleghe che devono collaborare tra loro per cui sono fiducioso e soprattutto un innesto anche di un giovane che ha voglia di fare e anche un messaggio importante di questo tipo Fanesi 38 anni è un ingegnere dipendente della Sae Pemede in politica dal 1999 entrato in consiglio comunale con 320 preferenze ora si dovrà dimettere da consigliere perché al suo posto subentrerà Sergio Del Rico primo dei non eletti del PD dovrà invece aspettare Annita Mencarelli visto che Minardi per il momento non si dimetterà da consigliere comunale oggi ci sarà l'esordine giunta sono molto contento ovviamente e spero di fare del mio meglio sono sicuro di entrare in una squadra che comunque ha già dimostrato un ottimo lavoro un'ottima coesione quindi con l'aiuto dei predecessori in particolare Marco Polini Marina Barniesi Stefano Marcheggiani cercherò di proseguire il lavoro buono che è stato fatto fino adesso cercando di ovviamente rafforzarlo e cercando di insieme alla squadra tutta la giunta di fare il mio meglio perché questa città possa avere tutte le soddisfazioni che sono necessarie e prima di cedere la delega ai servizi cimiteriali al collega Cristian Fanesi l'assessore Barniesi ha annunciato alcune novità che riguardano i cimiteri cittadini vediamo quali novità in arrivo nei cimiteri comunali di Fano dove è in atto un nuovo piano di servizi di riqualificazione strutturale a partire dall'aumento dei loculi disponibili ai cimiteri di Rosciano e dell'Ulivo ai progetti per il campo degli indecomposti inoltre è stato rinnovato l'appalto vinto per la seconda volta consecutiva dalla cooperativa sopra il muro che ha sostituito una delle navette del cimitero dell'Ulivo con un'altra attrezzata di pedana per consentire il trasporto di persone disabili per chi ha difficoltà di deambulazione potrà circolare pure con un mobility questo servizio sarà disponibile anche nel cimitero centrale in futuro probabilmente in quello di Rosciano potrà essere utilizzato rivolgendosi al personale presente che darà informazioni sul funzionamento del mezzo oppure su prenotazione contattando gli uffici al numero 0721 80 33 43 noi avevamo fatto una proposta per risistemare il campo di indecomposti così chiamato presso il cimitero dell'Ulivo siccome l'amministrazione per via delle proprie professionalità ha interviene in autonomia noi abbiamo sostituito quella miglioria con un servizio presso il cimitero di Fanno via della giustizia coadiuando il personale comunale in mancanza del custodio comunale che come sappiamo è deceduto Sanchioni Silvano per cui l'abbiamo sostituito noi con una nostra operatrice di chi si tratta e quali mansioni svolgerà? allora si tratta di Barbara Misturi che attualmente è anche la capocantiere e svolgerà le funzioni di registrazione organizzazione del servizio rapporti con l'utenza informazioni in assistenza Rita Perugini che è la comunale per cui insieme faranno lo stesso tutti i servizi che prima svolgeva il signor Sanchioni Ad annunciare le migliorie in conferenza stampa è stata Marina Barnesi poco prima del passaggio di delega con il neossessore Cristian Fanesi un anno e mezzo fa ha detto abbiamo ereditato una struttura con molte lacune nonostante la professionalità dei dipendenti che poi hanno dimostrato fin da subito la volontà di collaborare e di ripartire da capo dopo un duro lavoro precisa sono diminuite lamentele e segnalazioni da parte dell'utenza un'altra novità importante che verrà giunta per la prima volta sarà la distribuzione di una carta dei servizi cimiteriali che conterrà tutte le informazioni utili alla cittadinanza come gli orari di accesso i servizi forniti e i numeri di telefono di riferimento ma non è finita qui perché nei tre cimiteri principali e quindi al centrale all'Olivo e a Rosciano verranno distribuiti dei moduli per valutare il grado di soddisfazione attraverso giudizi suggerimenti o consigli per migliorare i servizi offerti e ricevuti anche Fano TV per tante contestazioni che sono arrivate anche nello scorso anno ha segnalato ha comportato davvero anche con i lavori pubblici una collaborazione molto stretta quindi anche con l'assessore Paolini è chiaro che sono interventi che non hanno la forza di ridare un volto nuovo ai cimiteri di Fano però sicuramente molto più decoroso e quindi io consegno oggi a Cristian Fanesi questo lavoro un lavoro importante che si esprime attraverso delle importanti migliorie ma anche una la volontà ecco di poter tenere tutto questo aspetto che è quello della cura il culto dei morti la sepoltura la organizzazione di questo al centro dell'amministrazione e per questo sono contenta del lavoro fatto e sono convinta che Fanesi saprà portarlo avanti nel migliore dei modi picchetto della Lega Nord oggi pomeriggio davanti ai tribunali di Pesaro Ancona Macerata e Ascoli in segno di solidarietà con il pensionato che ha ucciso con un colpo di pistola un ladro di 28 anni che si era introdotto nella sua abitazione in provincia di Milano l'uomo ora è accusato di omicidio volontario e venerdì 23 ottobre nella sala San Michele a Fano si terrà alle 16.30 un nuovo incontro rivolto alla cittadinanza durante il quale la giunta comunale comunicherà quali sono le proposte che ha deciso di rendere operative nei prossimi mesi per quanto riguarda appunto gli stati generali chiudiamo con la pagina degli spettacoli con il cognome della Rosa inizia a Senigallia la tournée invernale dei comici del San Costanzo Show Allora perché mi avete trascinato qui scusa l'ho chiamato alle 7.20 questa mattina per un servizio bravolino grazie perché abbiamo uno spettacolo nuovo in giro fuori tipo il 24-25 di questo weekend di ottobre sabato sera alle 21 domenica pomeriggio a Senigallia al teatro Portone il cognome della Rosa il cognome il cognome della Rosa che sono variazioni comico letterarie noi trattiamo i romanzi famosi libri molto importanti esatto e a modo nostro a modo nostro per esempio il nome della Rosa che dà il titolo allo spettacolo cognome della Rosa e poi per esempio c'è la divina commedia che è di di chi è boh di chi è con la D comincia con la D D di ah D di Dottomorossola Dante poi c'è i tre moschettieri che è di di umate lo dico io grande o piccolo medio vabbè poi ci abbiamo che ne so Lilia dell'Odissea e tanti altri romanzi Lilia dell'Odissea che sono di non mi ricordo della cioccia della cioccia ma no ma ma perché tanto ma no ma vedi che della cioccia della cioccia te lo cioccia come della cieca il cognome della Rosa poi è della cieca vero Filippetto ma no della cioccia della cioccia non ce la fa non ce la fa se uno non ce la fa non ce la fa ma tanto era l'ultimo servizio grazie per averci seguito arrivederci a domani ringraziamo pur ma il signore per la grazia che ci ha fatto perché questo è un gran donore che ne avremmi meritato grazie a tutti grazie a tutti